Il nubifraggio del 25 novembre scorso ha dato il colpo di grazia alla località San Giorgio, rendendo ancor più agonizzante una zona da troppo tempo abbandonata a se stessa. Centinaia di metri di costa sono finiti in mare con danni incalcolabili per il patrimonio ambientale, per gli operatori turistici, per gli abitanti della zona. A lanciare un forte grido d'allarme per le condizioni disastrate in cui versa la località è l'associazione Pro San Giorgio. Una situazione desolante, ciò che restava delle già compromesse opere primarie esistenti prima del nubifraggio è stato completamente spazzato via dalla furia dell'acqua, agevolata dal dissesto persistente. Le strade sventrate non sono più percorribili e l'arenile si è fortemente impoverito. Si teme che le prossime piogge mareggiate possano portare in mare anche le abitazioni. A manifestare tale preoccupazione, il presidente dell'associazione Raffaella Osso, i danni quantificati nella zona che ammonterebbero ad un milione e mezzo di euro sono ritenuti assolutamente insufficienti per un'area così vasta e per i danni ingenti che si registrano alle opere primarie. Per l'associazione Pro San Giorgio tutto ciò è stato determinato anche dall'assenza, negli anni, di tutta una serie di interventi più volte invocati ma mai realizzati. Mancati interventi che hanno pertanto reso la località ancora più vulnerabile in presenza di un'avversità atmosferica come quella di fine novembre. E ricorda Raffaella Osso come non abbiano mai avuto riscontro gli impegni assunti lo scorso anno durante una conferenza di servizi al Comune in cui tutti concordavano sulla necessità di un intervento risolutivo a difesa della costa minacciata dalle frequenti mareggiate da un lato e dalle violenti piogge dall'altro e durante la quale era stata prospettata l'esigenza di realizzare una scogliera a salvaguardia della costa sottoposta a continua erosione e ripascimento dell'arenile. E l'associazione Pro San Giorgio che oggi parla di disastro ambientale annunciato nella località torna per l'ennesima volta a sollecitare l'amministrazione comunale a prendere coscienza della grave situazione di disagio in cui vivono i residenti. La località, conclude il presidente Raffaella Osso, ha bisogno di interventi corposi e definitivi a cominciare dalla sistemazione della viabilità del lungomare e del tratto di costa di appartenenza.